Ascoltando il nostro himno di Mamelle Diciamo che quello che si è fatto è quello che si intende fare Per i prossimi 5 anni Io ritengo di avere la carta in regola Avendo lavorato 10 anni all'Assemblea regionale Primo con il deputato di opposizione E poi orgogliosamente a Franco Di Nello Musumece Nell'esperienza di governo di questi 5 anni Che nonostante la tragedia Covid Nonostante l'assenza di una maggioranza vera in aula Nonostante le magerie di partenza lasciate dal governo Progetta Veramente è riuscita ad invertire la rotta E oggi preparando un po' quello che si doveva dire Sui risultati limitatamente alla provincia di Ragusa Ho riempito due pagine ma ne avrei potuto riempire altre 20 E quindi sarà un piacere Smocciolare questi risultati Ai tanti amici che oggi affollano questo anfiteatro E affidarmi alla loro amicizia E al loro consenso se lo credono Per fare questa terza legislatura Sempre, speriamo e anzi ne sono certo Continuando un'esperienza di governo del centro-destra Questa volta qui da Schifani La prossima settimana noi siamo stazionati ai comizi Quindi almeno il comizio di chiusura a Comiso si farà Dopodiché in tutta la provincia stanno organizzando degli eventi particolari Ieri ce n'è stato uno a Modica veramente partecipatissimo Domani sera ce n'è un altro nel Chiaramontano Insomma, non ci fermiamo E arriveremo venerdì con questo caldo che ci sta massacrando Stanchi, stanchi ma soddisfatti Perché vedo veramente Forse non me lo merito Tanti amici si stanno spendendo per me in maniera assolutamente gratuita Spontanea e instancabile